Presidente Fedriga, Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica. Lei come commenta questa figura? Sembra che Renzi sia diventato l'emblema della ristorazione più che della rottamazione. Ha premiato colui il quale è stato ministro con Andreotti, con D'Alema, per diverse legislature parlamentare della democrazia cristiana, poi del PP, insomma una figura che sicuramente non rappresenta il nuovo della politica. Non rappresenta neanche le autonomie? No, anzi, diciamo che la Lega è stato l'unico movimento che con coerenza ha cercato di portare avanti un'alternativa al renzismo dilagante. Qualcuno si è piegato in modo supino e servile ai diktatrenziani e ha privilegiato le poltrone rispetto a quell'elettorato che nel 2013 aveva fatto delle scelte politiche. Ne prendiamo atto, ovviamente penso che anche tutti i cittadini ne prenderanno atto e vedranno chi è coerente con la propria gente, chi invece è coerente con le proprie poltrone.